Conferenza degli imprenditori delle 20 economie più industrializzate del mondo a Dangzhu in Cina. Il B20 che anticipa di qualche ora il G20, il Summit dei Grandi della Terra, è stato inaugurato dal presidente cinese Xi Jinping. In un momento storico in cui l'economia globale resta in difficoltà e le tendenze anti-globalizzazione si diffondono sempre più, il capo di Stato ha chiesto agli imprenditori di opporsi al crescente protezionismo perché l'isolamento, ha detto, significa ritardo. Per Xi Jinping occorre uno sviluppo armonioso e innovativo ma anche una finanza verde che permetta sì lo sviluppo economico ma che garantisca anche la tutela dell'ambiente. In una Cina che cresce ancora a due cifre, che vuole trasformarsi nella punta di diamante mondiale dell'innovazione, gli imprenditori proveranno a trovare nuove ricette per rivitalizzare l'economia. Suggerimenti e raccomandazioni verranno poi inoltrati ai leader del pianeta. Grazie. 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 Grazie.